L'Arezzo vince sul campo della capolista pianese per 2 a 1, una prova autoritaria di carattere, la reazione che i tifosi si aspettavano dopo lo scivolone di Ostia, il successo che rimette in ordine la classifica degli Amaranto. Paolo Indiani al termine del match è felice per i tre punti e per la prestazione dei suoi. Ci siamo tutti stupidi per la prestazione domenica, non c'era nessun motivo per capire che poteva venire fuori una roba del genere, però il calcio è bello per questo, a distanza di 7 giorni non modifi niente, se stavi male domenica e stavi male, stavi male anche oggi, invece non è vero che stavamo male. L'avevamo approcciato male, molto probabilmente, sicuramente noi si era già visto 15 giorni prima a Montespaccato, in quei campi sintetici lì, siamo in difficoltà, siamo in difficoltà perché non lo so, perché non ci siamo abituati a giocarci, non ci si allena mai, questo è come fosse un campo nerba, questo sintetico lì è straordinario, è come fosse un campo nerba, in quei campi lì io l'ho motivato così perché altrimenti non si spiega, d'altra maniera. Per noi è importante sicuramente, per noi è importante direi quasi fondamentale, bisogna avere per loro, però non credo perché l'ho visti bene, l'ho visti liberi, anche loro non hanno la pressione nostra giustamente, o meglio che sia, e sono una buonissima squadra e hanno dimostrato anche oggi che i vantaggi avevano, non era venuto per caso, ci voleva oggi, l'inizio è stato difficile, loro sono stati bravi, insomma, l'inizio diciamo abbastanza ben equilibrato, poi no, poi mi è andata avanti la partita, mi sembrava che si uscisse bene, l'inizio di suo tempo è stato straordinario, l'inizio di suo tempo praticamente l'abbiamo presa noi la gara a mano e se non veniva l'episodio su 2 a 0, mi sembrava che la gara fosse incalinata proprio su una vittoria larga, perché loro dopo il 2 a 0 non erano un grado, poi è chiaro, dopo il gol su angolo la ossa si è capoporta, loro psicologicamente ci hanno visto la possibilità di impari, noi ci siamo impauriti e da lì avanti abbiamo difeso più o meno e basta, però è che alla fine sicuramente non si può parlare di vittoria rubata, non credo, il campionato è chiaro, è totalmente riaperto, però se ora non mettiamo un bel filotto, questa vittoria qui si vanifica, bisogna mettere un bel filotto ora e siamo in grado di poterlo fare. Un tifo da brividi da altre categorie, l'Arezzo è stato sostenuto e incoraggiato da un tifo incessante e a tratti commovente, più di 600 cuori a Maranto che hanno esultato a fine partita per questa importantissima vittoria. La nostra è straordinaria, lo dicevo prima agli altri, quando inizi la partita e vedi una muraglia del genere, è una cosa a livello di rifori, fuori dalla norma e indipendentemente dalla D, anche in C, non esiste. Sono straordinari, è un pubblico straordinario e merita tutto il meglio possibile che noi possiamo fare. Roberto Convitto, uno dei grandi protagonisti di questo match, autore di un gol, l'Arezzo possiamo dire è questo. Sì, siamo questi. Come ho detto nell'intervista prima, abbiamo dimostrato che domenica scorsa Ostia Mare è stato solo un incidente, un primo tempo brutto, con un atteggiamento diverso e oggi si è visto che siamo entrati in campo con un'altra voglia, con un altro atteggiamento. Si è visto proprio dall'inizio del match, grande grinta, su tutti i palloni, su tutti i contrasti, veramente una squadra neanche lontana parente di quella di domenica scorsa. Sì, 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 assolutamente sì. Abbiamo preparato questa partita nel migliore dei modi. Sapevamo che di incontrare una squadra buona, una squadra che sa difendere bene, però oggi siamo stati veramente, veramente grandi. La tua prestazione è veramente imprendibile su quella fascia e poi questo splendido gol. Sì, ti ripeto, sono contentissimo per il gol, ma soprattutto per la squadra, per l'atteggiamento che abbiamo messo oggi in campo. e spero che la prossima settimana faremo ancora meglio.